Dottor Bravar, una considerazione conclusiva su questa due giorni di Eurobioatec? La conclusione è semplice, più scienza significa avere più innovazione e più sviluppo economico della città e della regione anche nel settore della salute. Abbiamo scoperto che in Italia produciamo più di 30 miliardi di Euro di fatturato in questi settori e che abbiamo scoperto che probabilmente ce ne sono altre tanti nei paesi dell'est con cui confiniamo e dovremmo intensificare gli scampi economici in questo settore.